Ben trovati, ben trovati a tutti voi, io sono Federica e oggi continuiamo con le mie grandi monografie dedicate ai grandi artisti della storia dell'arte e oggi pomeriggio voglio raccontarvi Édouard Manet. Édouard Manet è uno dei miei artisti preferiti in assoluto, dal mio punto di vista è l'artista da cui parte l'arte contemporanea, l'arte come la vediamo oggi e anche l'arte sociale, rivoluzionaria, ribelle, storica, profondamente storica amo il suo modo di essere assolutamente disturbante, potente nei messaggi che ha raccontato e ha esposto con conseguenti e fortissime critiche dai suoi contemporanei nella storia dell'arte e nel suo modo di poterla rappresentare e di raccontare la sua società. Édouard Manet nasce a Parigi il 23 gennaio del 1832 e muore sempre a Parigi il 30 aprile del 1883. Vediamo qui un sottoritratto del 1879. Prima cosa importante, Édouard Manet non è Claude Monet perché molto spesso i artisti vengono confusi, ma non c'entrano niente, o meglio, in effetti nei manuali di storia dell'arte Édouard Manet viene posto negli impressionisti, ma Manet non è mai stato impressionista. Ha ispirato per alcuni elementi della sua tecnica, della sua innovazione tecnica, gli impressionisti. ha ispirato la pittura libera, rivoluzionaria, violenta, a tratti, veloce, libera dal disegno in qualche modo degli impressionisti, ma non era un impressionista. Anzi, dal mio punto di vista, Édouard Manet è stato proprio un realista. Seguendo anche quello che afferma Gombrich nella sua storia dell'arte, ci sono state tre rivoluzioni pittoriche della storia dell'arte, insomma, francese nell'Ottocento. La prima è stata quella di Delacroix e Jericho, aggiungerei anche io, nella pittura, nella rivoluzione anche storica, nel racconto storico. La seconda è stata quella di Gustave Courbet, per quanto riguarda il realismo. Il racconto, l'inizio del racconto degli ultimi, del popolo, dei paesini, ad esempio il racconto del paese stesso, anche dove ha vissuto Courbet, o pensate anche a Millet, con le spigolatrici, quindi il racconto del lavoro, il seppellimento ormai di Courbet, oppure l'origine del mondo, o l'atelier dell'artista. Sono opere che hanno fatto la storia e la nascita del realismo, del racconto del popolo, della realtà, nella storia dell'arte. La terza rivoluzione, il terzo movimento rivoluzionario nella pittura francese, nasce proprio con Édouard Manet, secondo anche Ernst Gombrich. Perché Manet, però, era, dal mio punto di vista, un realista, un realista di cosa? Cosa raccontava Manet? Adesso lo scopriremo nel nostro percorso. Ho pensato di portarvi anche una fotografia. Ricordiamoci che in questi anni nasce la fotografia. Il primo fotografo, si dice sì, è stato Nadar. Nadar era amico degli impressionisti. Nel 1872, anno in cui c'è stata la prima mostra degli impressionisti, questa mostra è stata organizzata proprio nello studio di Nadar. E quindi l'unione fra impressionismo, percezione della realtà, della luce, della natura e l'ossessione del reale, creato e narrato perfettamente con la nascita della fotografia, con questa nuova tecnologia che era vista quasi come una, veramente una magia, qualcosa di terrificante, terribile. Nasce legato quindi all'arte. La nascita della fotografia è unita all'arte, legata all'arte, proprio impressionista. E come vedete, in questi anni iniziamo ad avere dei documenti, delle fotografie, degli uomini, delle donne che hanno fatto la storia e la storia dell'arte, anche dei documenti proprio fotografici. Quindi questo è interessante. Quindi vediamo qui una fotografia, uno scatto di Edouard Manet, che era un bellissimo uomo, possiamo dire con questi occhi chiari, magnetici. E sarà veramente, è un stato un soggetto fondamentale per la storia dell'arte, anche contemporanea, dei giorni nostri. Partiamo con una opera che mi ha colpito subito quando l'ho notata. In questo mio percorso delle grandi monografie, ovviamente io analizzo, scelgo alcune opere, secondo me, interessanti proprio nella creazione, nella storia della creazione di questi artisti, nelle loro opere, insomma. Quest'opera è interessante, questo dipinto interessante, si chiama Il bevitore d'assenzio, è del 1859 e già qui c'è la cifra di Manet. Manet aveva una famiglia borghese, il padre aveva già deciso quale doveva essere la sua vita, voleva che lui facesse l'avvocato. Questo non avvenne, diciamo che Manet non amava molto studiare, amava disegnare. Allora il padre dice, ok, non vuoi fare l'avvocato, deve diventare un capo marinaio e lo inizia a mandare in questi viaggi in barche. Però anche lì lui non riesce a seguire questo desiderio paterno, perché lui voleva disegnare, quindi anche in questi viaggi, in mare, lui prendeva il taccuino e osservava le persone, le disegnava, le ricreava nella sua fantasia e nella sua pittura e disegno. Quando torna il padre dice, ok, non vuoi fare neanche questo, benissimo, fai quello che vuoi, tanto tu sarai comunque infallito. Ovviamente iniziare questa strada, qualsiasi strada lavorativa, con queste parole paterne che poi per un ragazzo, per i maschi, il padre ha un ruolo veramente di emancipazione, quasi da eroe, non fu facile per Manet e tra l'altro Manet sarà anche uno dei pittori più criticati forse pesantemente, tra i più criticati della storia dell'arte. Nonostante questo lui continuò con la sua idea fortissima di arte rivoluzionaria. Già in questo ritratto c'è moltissimo della sua rivoluzione. Per prima cosa Manet dipinge, ritrae un bevitore d'assenzio, un uomo alcolizzato. L'assenza all'epoca era una cosa di una droga, come anche la fata verde, l'altra bevanda terribile dal punto di vista per le conseguenze mentali, ma anche del fegato, pensate a Lautrec, morirà anche a causa delle fatte verde, ma è una droga fondamentalmente di cui si, che conoscerà anche Van Gogh, Gauguin. Era proprio la bevanda alcolica, la sostanza stupefacente proprio della fine dell'Ottocento a Parigi, la città del futuro, era il centro del mondo all'epoca a Parigi, era la città del capitalismo, dell'industrializzazione, la città che brulicava dei locali del Moulin Rouge, del Moulin de la Galette, delle Fouli Berger, era la città che correva, che dava l'impressione di vita, di emancipazione, di libertà, di gioia. In realtà Manet racconta cosa accadeva veramente all'epoca e lo fa già in questa sua prima opera. È un ritratto assolutamente semplicissimo, senza ambientazione, un fondo nero e un'ombra, l'ombra del soggetto principale. C'è Caravaggio qui, c'è Velázquez, due pittori che lui conosceva e amava bene, che l'avevano segnato perché lui andava all'essenza delle cose. Io sono dell'idea che Manet sia stato un realista borghese. Questa immagine in particolare in realtà racconta probabilmente un uomo ubriaco di Montmartre, di Montparnasse, però perché qua si riprende anche, si rifà alla cultura realista di Courbet, quindi delle persone più semplici, ma lui poi deciderà di raccontare un ambiente sociale ancora più intoccabile di quello del popolo, che era quella della borghesia e lo vedremo dopo. Qui c'è una bottiglia per terra, un muretto, una pittura libera, una pittura assolutamente imperfetta, assolutamente quasi che sembra gettata lì. Ecco, in questa depressione frenetica, citando un mio alunno, che così mi ha ben descritto secondo lui la fine dell'Ottocento, la belle époque parigina, in questa frenesia c'è un uomo che si ferma, c'è un uomo che si ferma, che guarda in un punto fuori dalla cornice, un uomo che ha un volto, due occhi appannati, non riusciamo neanche a carpirne la vera identità, altro dettaglio che troveremo spesso in mani. Un bicchiere lì, appoggiato a questo muretto e nient'altro, delle scarpe sgualcite, un paio di calzini verdi luminosi, un abito, un mantello assolutamente sgualcito, povero, utilizzato, usato e una totale solitudine. Non a caso, qua siamo nel 1859, già un'opera rivoluzionaria, nel 1875-1876, Degas, che sarà Edgar Degas, che sarà uno dei pittori impressionisti, ma anche lui un impressionista particolare, perché seguirà delle regole completamente sue, delle idee sue di pittura, di struttura dell'immagine, anche lui utilizzerà molto la camera scura, la struttura fotografica, i suoi punti di vista sui soggetti sono molto fotografici, direi. Queste sono delle opere d'arte che ha fatto la storia della pittura. Degas qui prende due attori, in realtà, quindi non è un vero realista Degas. Prende due attori e chiede loro di fare, di prendere delle parti, quindi una donna ubriaca e un clochard, una prostituta probabilmente ubriaca, ed erano due attori. Dicono, lui proprio chiede questo, posizionatevi e fate questo ruolo. Ed è un'opera di una potenza estrema. Anche qui notate queste due ombre dietro di loro, su uno specchio. un'ambientazione assolutamente povera, essenziale, una pittura veloce e questi volti assolutamente persi, assolutamente distaccati dal reale e la solita, il solito bicchiere d'assenzio, questa bevanda verdognola, la bottiglia vuota, che forse ci ricorda che è stato bevuto tutto questo assenzio. E questo volto della donna, completamente perso, l'uomo sulla destra, il clochard, guarda al di fuori, anche qui, della cornice. I due non comunicano, sono vicini, ma non percepiamo una intimità, un'amicizia, un rapporto tra di loro. È proprio il ritratto della solitudine. E quando io ho scoperto quest'opera di Manet, ho proprio pensato, è proprio vero che gli impressionisti hanno visto in Manet un baluardo, perché Manet, Degas, Renoir vedevano in Manet il rivoluzionario, il maestro, colui da cui poter apprendere delle innovazioni pittoriche, ma secondo me anche di soggetto. Perché Manet riusciva con l'essenzialità, con la purezza totale, a raccontare una situazione emotiva, psicologica, sociale. Manet sarà criticato da tutti, tranne da due persone, da due intellettuali dell'epoca, Emile Zola e Charbaudelaire. Però questo lo scopriremo andando avanti nel nostro percorso, perché Manet diventa famoso nella storia dell'arte per due opere in particolare che oggi vi ho portato, che sono l'Olimpia del 1863 e la colazione sull'erba, la déjeuner sur l'herbe del 1863. Con queste due opere Manet si espone, espone queste due opere al Salon del 1863 e saranno due opere che sconvolgeranno l'opinione pubblica, saranno censurate, criticate, lui sarà attaccato profondamente. Molto spesso è quasi affascinante raccontare le storie dei pittori che sono stati criticati, che hanno dovuto lottare contro la società contemporanea. In realtà spesso ci dimentichiamo che queste storie vincenti nascondono neanche troppo dei drammi personali. La storia di Van Gogh ad esempio è affascinante, è romanzata, è emotiva, è appassionante, ma è la storia di dolore profondissimo di questo uomo, di questo genio assolutamente incompreso, se non dal fratello, è compreso solo dal fratello. Così sarà per Manet. Manet espone queste due opere con la voce del padre che gli rimbomba in testa, sarei comunque un fallito, ma lui si disinteressa e vuole disturbare, vuole cambiare per sempre la storia dell'arte e lo fa con queste due opere profondamente rivoluzionarie. Dopo queste opere appunto Emisola e Charles Baudelaire lo appoggeranno sempre di più, ma le critiche saranno così feroci che Manet entrerà in un profondo esaurimento nervoso che lo porterà a scappare e andare in Spagna, a Madrid, dove lui scrive all'amico Baudelaire, caro amico qui ho ritrovato la vera pittura, mi trovo al museo di fronte alle opere di Diego Velázquez e quindi per lui la storia dell'arte era, la storia dell'arte dei grandi maestri anche del passato, era la linfa per poter ricreare il suo pensiero, la sua emotività. Perché sarà così rivoluzionare queste due opere? Qua vediamo l'Olimpia, è una prostituta Olimpia, il primo nudo si dice della storia dell'arte non giustificato. Questa donna nuda non è una venere, non è una cleopatra, non è una figura mitologica, non è un'odalisca esotica orientale, è una donna con un nome ben chiaro su dimensioni enormi perché l'Olimpia e la Dijunière sur l'herbe furono rivoluzionarie e molto sconvolgenti anche per le dimensioni, perché sono due opere di dimensioni immense, chi le ha mai viste al Musée d'Orsay a Parigi. In questi metri di opera d'arte Manet decide di rappresentare Olimpia, una prostituta che tutti i borghesi conoscevano bene e che ritrovano nel soggetto rappresentato. È mascolina, si dice in realtà che Manet abbia utilizzato una modella in particolare in tutte le sue opere con cui aveva anche un rapporto di amicizia. Però Olimpia è un nome che tutti riconoscono, tutti i borghesi, tutti gli uomini borghesi conoscono questa donna ed è lì, è lì presente col suo corpo tozzo, imperfetto, assolutamente reale, col suo volto quasi mascolino, col suo sguardo forte di chissà che lavoro fa. La mano sul pube, forte, potente, decisa. Queste lenzuola, come hanno detto alcuni miei alunni, sporche, utilizzate, non candide pure, eleganti. Una serva africana, nera, che li porta dei fiori, le porta dei fiori probabilmente è di un cliente. Ai piedi un gatto nero col pelo drizzato, pelo teso, dietro del verde, il verde scuro, il verde che io ho ribattezzato il verde Manet, un verdone, tanto che il volto della nostra signora di colore quasi non si nota, dettaglio che Basquiat nel street artist degli anni 60, 80 e 900, criticherà molto perché è stato un artista afroamericano, in realtà latino, del centro America, però nero, insomma, che amava follemente Manet, lo vedremo dopo, amava follemente Picasso, ma della pittura occidentale non amava molto come venivano rappresentate le persone di colore nelle loro opere. Una parete con una linea precisa che punta proprio sul pube della nostra protagonista, che guarda lo spettatore in maniera molto disarmante, di una che sa chi è e di una che sa anche chi è lo spettatore di fronte a lei, e di una donna che non è alla merce dell'uomo, con un corpo orizzontale e sottomesso, è quasi seduta in una posizione assolutamente nuova, quasi verticalizzata della donna che nasce proprio in questi anni, nella fine dell'Ottocento, con la leggera emancipazione femminile di questi anni, ma quest'opera è in realtà una citazione, una citazione della Venere di Urbino di Tiziano Veceglio, del 1538, che oggi si trova alle gallerie degli uffizi di Firenze. Guardate, non vi posso raccontare tutta quest'opera perché mi ricordo che il mio professore alle imprennale, il professor Leonardo Capano, che io cito sempre, è stato il professore migliore di storia dell'arte che abbia mai avuto, su quest'opera ha fatto una lezione di un'ora e mezza, ed è forse una delle lezioni che ha cambiato la mia vita, la mia visione dell'arte, magari ve la racconterò in un'altra situazione, in un'altra lezione. Però qui è interessante vedere come Manet era un citazionista, citava la storia dell'arte in questo caso addirittura italiana, riproponendola in base alla contemporaneità, la Venere di Urbino e la Venere bella, elegante, raffinata, anche se il sottotesto che ho scoperto io per prima in maniera sconvolgente era tutto tranne che raffinato, elegante, puro. Però la pittura rinascimentale era assolutamente idealizzata anche nella bellezza. Però ci sono tantissimi elementi dalla donna sdraiata in primo piano, che qui è una Venere, ma Manet la chiamo Limpia, quindi con un nome contemporaneo. La parete con questa linea verticale che si appoggia proprio sul pube della nostra protagonista. Il tendone verde, quel verde scuro che io in realtà ho battezzato verde Manet, il cagnolino ai piedi della nostra protagonista di Tiziano, che ha un simbolo, ha un significato preciso. Nell'iconografia il cane è simbolo di fedeltà, ma qui dorme e ha uno specifico particolare significato in quest'opera che Manet conosceva bene. Qui lo cambia, non mette il cane addormentato, ma mette il gatto col pelo indirizzito, che è simbolo di erotismo, di eccitazione maschile, di eccitazione erotica. Quindi è un quadro assolutamente sconvolgente, che cita però la pittura accademica, l'alta pittura, la pittura rinascimentale italiana. Quest'opera ovviamente sarà criticata come la déjeunée à son l'herbe. Altra opera di dimensioni enormi, che si trova oggi sempre al Musee d'Orsay di Parigi, in cui viene rappresentato qualcosa di molto disturbante per l'epoca. Forse anche per oggi, se ci ragioniamo un po'. C'è una donna nuda, con due uomini ben vestiti, due borghesi, due aristocratici dell'epoca. Dalla posa si capisce anche che potrebbero essere due intellettuali, perché sembra che stiano parlando di grandi argomenti mondiali, politici, sociali, letterari. E in fondo una donna che si sta lavando. Si sta lavando i piedi, le gambe, con una sottovester arrotolata proprio per lavarsi nel fiume, nel corso d'acqua. Una situazione, un parco, insomma, assolutamente riconoscibile per i parigini dell'epoca. Troppo riconoscibile, perché per noi questa scena forse può sembrare strana. Cosa ci fa una donna completamente nuda, con due uomini ben vestiti della aristocrazia dell'epoca, con questa posa proprio anche, guardate quello di destra, da interlocutore, da oratore. Questa donna nuda, con corpo reale e non idealizzato, ci guarda. E quindi sempre c'è questo engagement, questo catch the eye dell'osservatore. Quindi questo richiamo, questo coinvolgimento dello spettatore. E sullo sfondo questa donna che si sta lavando, che è pensato era un soggetto all'epoca ancora più sconvolgente e scabroso del nudo. Perché è una donna in sottovesta che si lava in una situazione talmente intima, che è assolutamente fuori luogo rappresentarla in una scena con due uomini per bene dell'epoca parigina. Una delle critiche che ebbe quest'opera è la prospettiva, una prospettiva imperfetta, una prospettiva quasi sballata. Questo sfumato sullo sfondo è un richiamo di Manet a Leonardo da Vinci e in primo piano una natura morta, perfetta, iperaccademica. Cosa voleva dire con quest'opera Manet? Primo voleva raccontare una verità, una verità disarbante per la borghese dell'epoca, per l'aristocrazia dell'epoca. Era quello che accadeva, era quello che accadeva. Gli uomini benestanti, intellettuali, politici, si accompagnavano molto spesso con prostitute. Questa realtà l'aveva raccontata anche Gustave Courbet nella famosa opera Le due donne sdraiate sulla senna. Erano anche spesso degli stupri che avvenivano al di fuori della città. Era lo sfruttamento del corpo, della figura femminile. Con una prospettiva disturbante, con una scena disturbante sullo sfondo, quasi più disturbante della donna nuda in primo piano. Una donna che si lava davanti ad altre persone e in primo piano una natura morta, accademica, perfetta, che in realtà è una natura viva. E questo elemento è, secondo me, il dettaglio più interessante di tutta l'opera, paradossalmente, perché io la vedo come la sua firma. Ma lei dice, io sono un pittore accademico, io la conosco la storia dell'arte, io sono bravo. Io so come si può dipingere perfettamente, io conosco Tiziano, io conosco la pittura rinascimentale italiana, ma tutta questa perfezione è stata già fatta, è stata già creata. L'arte deve andare oltre, deve disturbare e forse deve raccontare una tematica disturbante che nessuno di voi vuole vedere. Perché cosa accadeva in questo salone? I borghesi, gli uomini bene, i politici, incravattati, ben vestiti, arrivavano al salone e vedevano la loro vita rappresentata in metri e metri di opere d'arte. Da una parte la prostituta olimpia, che tutti conoscevano, e dall'altra parte come loro passavano i pomeriggi, al di là, al di fuori dell'apparenza, del perbenismo. E quindi per questo io vi dico, vi ho detto all'inizio, vi ho anticipato che secondo me Manet è stato il più grande rivoluzionario sociale e politico, tra i più grandi rivoluzionari sociali e politici, perché lui ha raccontato la verità, ma la verità quella più scomoda, non la verità del popolo, perché in realtà Courbet racconta ad esempio nel realismo il popolo, gli ultimi poveri contadini, ma paradossalmente quello dava meno fastidio. Di vedere invece la verità, il realismo di una società, dello strato sociale più ricco, più perbene. Queste opere, potete immaginare, ovviamente saranno censurate, criticate. Lui sarà attaccato pesantemente dai critici e dagli storici dell'arte dell'epoca e Manet soffrirà di questa cosa, però vi ho portato in questa lezione due esempi di quanto Manet sia stato ispiratore per la storia dell'arte contemporanea, proprio per quella natura morta viva in primo piano. Vi ho portato Picasso, con la prima opera che dà il via nel 1900, nel 1907, quest'opera oggi si trova al MoMA di New York, ha dato il via alle avanguardie storiche, alle prime avanguardie storiche. Picasso, con le demoiselles d'Avignon, delle donne, delle prostitute in un bordello, fa nascere il cubismo e in primo piano mette una natura morta, una natura morta che forse è proprio una citazione di Manet. L'artista che ha più ispirato Pablo Picasso è stato Cézanne e Cézanne è uno degli artisti che ha più amato, che ha più guardato, che ha più osservato e che più ha citato Édouard Manet, famosissima ad esempio, proprio una riproduzione, ricreazione di Cézanne della Déjeuner sur l'herbe. E poi vi ho portato lui, un artista che ho già citato prima, che è Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, quest'opera, è stata esposta qualche anno fa alla bellissima mostra al Mudec, a Milano, ed è un reclining nude. Basquiat, uomo, artista morto giovanissimo, 27 anni, simbolo degli anni Ottanta, americani, new yorkesi, simbolo della street art. Primo artista famoso afroamericano, in realtà lui aveva origini haitiane, insomma, del Centro America, ma il colore della sua pelle, paradossalmente anche lui, lo faceva sentire profondamente legato all'Africa e alla storia dell'Africa. Ha fatto pochi nudi femminili Basquiat e questo è uno dei suoi pochi nudi femminili, che è il reclining nude. E guardate qui, anche qui, il nostro Basquiat ha citato quella matura morta, in primo piano, di Édouard Manet e lui per primo lo ammette il grande onore, il grande rispetto che provava verso Picasso e verso Manet, a parte per quel piccolo elemento che non sopportava in Manet, appunto della donna di colore che quasi neanche si vede nel verde dello sfondo, come a toglierle l'identità. E non apprezzava di Picasso, per quanto lo adorasse e fosse per lui il grande idolo del Novecento, il fatto che, appunto, la cultura occidentale raccontasse l'Africa queste culture primordiali, come di Rakitering, attraverso, ad esempio, qua, semplicemente mettendo delle maschere africane in un soggetto profondamente, invece, occidentale, che è quello delle bagnanti, quello delle prostitute in un bordello. Ecco, Basquiat farà in maniera diversa, racconterà la vera cultura africana, per esempio in Yellow Tard and Feathers, Catrame Giallo e Piume, in cui racconta cosa subivano gli schiavi africani in America. Però è interessante vedere come Manet sia stato grande ispiratore dell'arte contemporanea, della street art, del cubismo, con Picasso, perché con questa natura morte, come se Manet dicesse, è facile attaccare un artista sulla tecnica. Mi state dicendo che io non so creare una giusta prospettiva, vi sto citando Leonardo. Mi state dicendo che io sto facendo un nudo femminile non perfetto, non idealizzato, non idealizzato come ad esempio le venere rinascimentali, ma le donne reali sono così. Mi state dicendo che io sto rappresentando una donna che si lava, non si capisce bene cosa davanti a questi uomini, ma è una scena che tutti sapete, che conoscete, perché sapete che cosa accade nei parchi all'aria aperta della città, del capitalismo e dell'industrializzazione nella città di Parigi, nel centro del mondo. Potete attaccarmi, però io sono un artista vero, io so dipingere, io sono un grande pittore, io ho studiato e questa mia firma mi impone di difendermi in qualche modo dai vostri attacchi e di sottolineare che l'arte ormai deve andare oltre, deve disturbare, deve crearsi una nuova identità, proprio negli anni in cui la fotografia sta nascendo e quindi Manet percepisce prima di tutti questa rivoluzione che sarà la seconda crisi della storia dell'arte. La prima è il manierismo, la seconda è proprio la nascita della fotografia, perché l'arte per millenni, dalle grotte di Lescaux, dalla preistoria, ha sempre voluto rappresentare la realtà, il verosimile. Quando nasce la fotografia l'arte è come se non avesse più senso di esistere, perché la fotografia ovviamente rappresenta la perfezione, cosa che l'arte non può in confronto a un ritratto fotografico, vi ho fatto l'esempio all'inizio, l'autoritratto di Manet e la fotografia, la fotografia è sicuramente più perfetta, ma c'è un dettaglio, l'autoritratto ad esempio ti può raccontare di come si vede l'artista e questo autoritratto del 1879 di Manet sottolinea anche la pittura, la rivoluzione pittorica, perché forse ciò che l'arte, la pittura aveva, che all'epoca la fotografia non aveva, era proprio il colore e il colore è il primo modo in cui gli artisti cercano di reagire, di ricreare il proprio senso di vita, quindi la potenza del colore, la perdita della perfezione dell'accademismo, del disegno e il colore come senso dell'esistere, dell'emotività, come poi farà egregiamente e in maniera completamente libera, Vincent van Gogh. Siamo quindi arrivati a queste due opere rivoluzionali che cambiarono la vita al nostro Manet. Manet dopo le critiche contro di lui, dopo queste due opere che cambiano la storia dell'arte, infatti quest'anno secondo me è importante, in 1863, come vi ho anticipato ma ne andrà in Spagna per riprendersi. E la Spagna, la pittura spagnola, è sicuramente una delle pitture che lui più ama, apprezza Velázquez, ma anche Francisco Goya. Osserva, guarda le opere di Francisco Goya a Madrid e osserva ad esempio la Celestina, la Maya e la Celestina al balcone, che racconta una verità dell'epoca. Goya qua racconta la prostituzione che avveniva proprio in famiglia. La Maya e la Celestina, vedete qua la Celestina dietro che sembra in realtà sgranucchiare il suo rosario, che poi se guardiamo bene non si capisce se è un rosario o una collana, però la pose è proprio quella della preghiera, ma in realtà c'è un ghigno molto cattivo di questa donna. E in primo piano c'è la Maya al balcone che osserva la strada e si fa osservare dalla strada, si fa guardare da chi passa. E questo era proprio quello che accadeva, un po' in realtà come le vetrine oggi di Amsterdam, era quello che accadeva. La prostituzione veniva proprio così, nella Spagna, nell'inizio dell'Ottocento, le donne, le nonne, le madri vendevano le proprie figlie, in una povertà assoluta e in un'ignoranza profondissima che racconta benissimo Goya nelle sue incisioni dai disastri della guerra a appunto i capricci, il sonno della ragione genera mostri. Goya racconta cosa avveniva nella società e una delle piaghe della società dell'epoca era proprio la prostituzione delle giovani donne creata e strutturata dalle nonne, dalle madri, quindi dalle donne di famiglia che per guadagnare qualcosa vendevano liberamente dal balcone le loro figlie che dovevano farsi guardare e attirare lo sguardo dei possibili clienti. Questa è un'altra opera che è la Maya al balcone, 1808-1814 e questa è un'altra realtà, la prostituzione degli uomini, la molestia, il potere maschile sulle donne, sulle Maya, sulle donne dell'epoca, quindi in questo caso c'è la rappresentazione proprio delle donne al balcone che si fanno guardare con dietro i due approfittatori, coloro che guadagneranno dalla vendita di queste due giovani donne. Mané vedrà queste opere e rappresenterà, realizzerà una delle opere sue più famose e affascinanti secondo me della storia dell'arte che sono proprio le Maya al balcone ed è, qua forse non c'è neanche bisogno che ve lo dico, è ovviamente una citazione a Goya che lui dichiara chiaramente anche nel titolo ed è la rappresentazione però, qua sono passati 70 anni nella storia, siamo a Parigi e non siamo in Spagna e sono queste due donne bellissime al balcone che si fanno guardare con volti tristissimi o addirittura senza volto, con un volto anche qui sfocato come il nostro bevitore d'assenzio all'inizio della lezione. E dietro questi due uomini benestanti, Mané sapeva rappresentare molto bene questo atteggiamento degli uomini benestanti per bene dell'epoca di chissà che vincerà sempre su tutto e controlla la situazione, no? Sperando che prima o poi qualcuno si fermi e chieda insomma di poter sfruttare il corpo di queste, di una di queste due donzelle. Il ombrellino tra l'altro era proprio un simbolo dell'epoca delle prostitute e quindi questa rappresentazione è profondamente, anche qui, sociale, di denuncia sociale, quindi in realtà Mané andrà in Spagna, tornerà dalla Spagna più convinto di prima che il suo ruolo nella storia e nella storia dell'arte sia quello proprio di, anche citando i grandi, abbiamo visto Tiziano, abbiamo visto Le nature morte, Fiamminghe di Caravaggio, abbiamo visto qui Francisco Goya, vedremo, poi ci saranno, ci sono tante altre opere con cui ha citato Diego Velázquez, Velázquez ad esempio con Las Meninas, con questo, da Velázquez prese anche questo fondo neutro, pensate all'opera di Mané di Pifferaio, in cui c'è proprio questo fondo neutro, assolutamente puro, essenziale. Citando i grandi però lui dice, io cito, io sono bravo, io conosco, ma vi racconto la società in cui viviamo e denuncio profondamente la società in cui viviamo. E qui, citando Goya, in realtà cita un artista che era un artista che ha denunciato la società, che è stato richiamato anche dall'inquisizione, Goya, per le sue incisioni. E quindi è proprio un richiamo a un artista che ha rivoluzionato la storia dell'arte spagnola e qui Mané vuole fare la stessa cosa nell'epoca sua a Parigi, la Parigi brulicante che sembra giugliosa, emancipata, libera, ma in realtà è assolutamente rinchiusa in gabbie di donne senza volto, quasi con maschere. E ho portato in questa lezione anche due opere che abbiamo appena visto alla mostra da Van Gogh Picasso, bellissima mostra della collezione Tannhäuser dal Guggenheim di New York. E in questa, proprio la prima sala, c'erano queste due opere di Mané che raccontano proprio quello che vi sto raccontando, della finta emancipazione femminile di donne che ad esempio qua è una donna allo specchio che si guarda ma noi non vediamo il riflesso, richiamo della Venere allo specchio di Diego Velázquez, di Velázquez, come vedete Velázquez è un nome che ritorna nella sua arte, è una donna che si toglie da sola il corsetto, pensate che questo gesto era visto quasi come esagerato, fastidioso anche questo, disturbante, perché dava fastidio vedere una donna che si vestiva e si svestiva da sola, pensate un po' una delle critiche che fu fatta anche a Rietzlous-Lautrec quando rappresenta le prostitute che si vestono e si svestono e si lavano da sola, era una cosa che non si voleva vedere all'epoca, una donna ha sempre bisogno di un uomo per sistemarsi. Questa donna si sta svestendo dopo una serata probabilmente all'Opera o in uno di questi locali, ma non vediamo il suo volto, forse è lei per stessa che non si vede, perché non è felice, si sente persa in questa Parigi brulicante che fa perdere in realtà l'essere umano. E anche qui, ho proprio spiegato così anche alla mostra, questa donna, questa donna col vestito a righe, che è probabilmente una prostituta perché ha un dettaglio esotico e l'esotismo era spesso un altro dettaglio come l'ombrellino legato alla prostituzione, ma non si sa, sicuramente una donna senza volto, anche qui un volto che sembra una maschera, senza espressività, senza emotività, senza identità. E questa industrializzazione, questo capitalismo, questa frenesia sta facendo perdere l'essere umano. Ed è poi tutto questo senso, questo profondo senso, si concentra in questa opera, che è una delle ultime opere di Edouard Manier, che io trovo un capolavoro assoluto. Questa è una delle opere su cui passo molte ore con i miei alunni in classe perché cerchiamo di analizzarla da ogni punto di vista, perché è un mistero, è un mistero ancora oggi. Il nostro Manier racconta il bar delle Foli Berger, siamo nel 1881-82, c'è sullo sfondo uno specchio che ritrae la vita di fronte alla nostra protagonista, è quello che lei vede, donne che donne, uomini che giocano, che ballano, che bevono, brulicanti di follia, di fata verde forse, di assenzio. Al centro c'è lei, una cameriera, quindi una donna lavoratrice, altro elemento di rivoluzione sul femminile, di emancipazione. Però lei ha uno sguardo assolutamente triste, perso. Qualche anno fa c'è stata una mostra bellissima a Palazzo Reale a Milano dedicata a Edouard Manier. E quando iniziavo il percorso dicevo sempre preparatevi, adesso c'è un gioco, facciamo un gioco. Ditemi se nel percorso c'è una donna che sorride nelle opere di Manier. Non ne abbiamo trovata neanche una, perché Manier sceglie la donna come luogo dell'emotività, come persona per raccontare la verità dell'epoca, che era una verità straziante, era una gabbia di finta felicità, una depressione frenetica. Questa donna è completamente isolata, sta pensando chissà cosa. E poi c'è il grande mistero. Il grande mistero, qui dietro c'è un'altra donna che parla con un uomo. Grande mistero, è una sua collega? O è lei che si specchia al contrario e che sta parlando con un uomo che le sta a chiedere informazioni o che ci sta provando, probabilmente, e per questo forse il suo volto. Guardate, non si sa, perché ovviamente se noi pensiamo all'idea di immagine, qua dovrebbe esserci l'uomo con cui questa donna sta parlando. Però se osservate il tavolo dietro, sembra una perfetta riproduzione di quello che vediamo in primo piano. Quindi è lei stessa, vista di spalle, o è una collega che parla con un uomo? Grande mistero della storia dell'arte. Dal mio punto di vista non è neanche importante, anzi forse Manet, un po' come il sorriso della Gioconda, no? Leonardo, c'è chi dice che quel sorriso della Gioconda è il sorriso di Leonardo che ancora si fa beffe di noi dopo secoli di storia dell'arte, in cui cerchiamo di capire perché sorride, tanto che Duchamp le farà i baffi con la famosa scritta, come dire, lasciate perdere la Gioconda, sorride perché vuole lei e non è importante questo fondamentalmente nella storia dell'arte. Forse c'è del mistero e l'artista voleva del mistero. Credo che sia un po' la stessa cosa, ma ne forse in quest'opera voleva lasciare del mistero, della confusione, quella confusione che è tipica degli ubriachi, che è tipica di chi ha bevuto, che è tipica della nuova tecnologia della fotografia. Perché ad esempio alcuni miei alunni mi hanno detto, ma no, però con alcuni metodi tecnologici della fotografia si può creare il grandangolo che sembra che... io non ho capito niente, però posso dirvi che in effetti c'è del mistero e forse questa confusione ci sembra quasi di sentire le voci in sottofondo, il rumore dei bicchieri, questo qualcuno che magari sì ci sta provando e chiede che bella ragazza, ma vuole uscire, così e lei sembra che si sta un po' isolando. Tutto questo, tutto questo caos è l'epoca in cui ha vissuto Manet, è l'epoca della belle époque, che era belle, era bella forse solo esteriormente, ma la profonda anima di crisi è rappresentata perfettamente nelle opere di Manet, di questo grande genio, di questo grande rivoluzionario della fine dell'Ottocento. Pensate che Manet, quando io racconto ai ragazzi la storia dell'arte, lo metto tra i primi rivoluzionari della fine dell'Ottocento, quello che ha dato il via a Lautrec, a Klimt, a Van Gogh, a Gauguin, a Cézanne, quei cinque rivoluzionari che hanno poi aperto il mondo delle avanguardie. Manet ha saputo essere un reporter, ha saputo essere un reporter della storia attraverso l'arte, attraverso il racconto dell'immagine, una storia che è sconvolgente, quella della fine dell'Ottocento, perché sarà poi rappresentata nell'urlo di Munch, alla fine dell'Ottocento proprio quella depressione, quel panico, quell'ansia, quella perdita della propria identità, quella eterno sovrappensiero, quella voglia di staccarsi, e Manet ha scelto la donna come luogo e come mediatore di questa crisi, di questo disagio di un'epoca. Per questo io credo che sia il più grande artista contemporaneo in realtà, perché da lì nasce anche questo amore dell'artista come intellettuale, dell'artista come persona che può raccontare e ribellarsi alla società. Vi ho messo qui delle fonti su cui mi sono appoggiata, Gombrich ovviamente, la storia dell'arte, però anche tutto quello che ho letto in questi anni, le opere che ho visto, i cataloghi di queste due importantissime mostre, quella di Manet nel 2017 a Palazzo Reale e quella di Van Gogh, da Van Gogh a Picasso, della collezione Tannheuser, a Palazzo Reale proprio del 2019. Spero che vi sia piaciuto anche questo percorso e vi ringrazio tantissimo per avermi seguito e un abbraccio grande, alla prossima e a presto, grazie, un bacio, ciao!